Ben ritrovati alle previsioni meteo di mercoledì 8 febbraio. Affoggi a cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge. Sono previsti 5 mm di pioggia. Temperatura massima registrata di 7 gradi. In serata presenti schiarite la minima sarà di 2 gradi. Per ora è tutto buon proseguimento con i programmi della nostra rete.